Eppure Aldu, com'è strano se tu prevedi la chiesa? Perché? Io mi sto accennando la chiesa, mi sono chiuso a confessare, no? Mi aspettavo che chi le riceve? Le riceve due ave marie, tre padri nostri. Invece si dice, no, 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 voi una volta che fate peccato e cose, dovete fare opera di bene. Spigliate 50 euro le date alla prima persona che incontrate. Eh, sono qui, rammi 50 euro. Ah, non è fesso, cane mia, no, non deve essere una persona conosciuta. Sino invece di perdere la casa e di regalare la mia figlia, la mia figlia. Deve essere una persona strana, tu vedi 50 euro e ce li ha là. Ui, ui, qua c'è stata una prostituta, la conosci? Ah, signore, io non la so, tu la sai? No. E che non sai che è una prostituta? Eh, è vero, che diamo una vina. Ah, sì, sì, una prostituta. Non ce l'è essa, vieni si ripeto. Eh, 50 euro. Eh, beh. Signore, buonasera. Buonasera. Signore, qua stanno 50 euro. Bello, ma non vai da 50 euro, cambierà 100 euro. No, 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 signora, 50 euro. Me l'ha detto proprio il prete, vedi, 50 euro. Ah, il tuo breve, ti dice, ah, il secco, il loro breve ti vanno tutti i giorni. È cliente.